hai detto che il lavoro è anche una fuga da problemi personali ma in che senso è un po come dicevo prima nel senso che può diventare un'isola felice no c'è un qualcosa in cui tu a volte scappi e in cui ti proteggono nel mondo esterno però fare degli esempi che che magari aiutano prova a pensare questo da un lato il lavoro è tendenzialmente a meno che non lavori con tuo marito tua moglie e tuo fidanzato la sua fidanzata un progetto personale cioè personale nel senso che magari si lavori con tante altre persone magari sei all'interno di una multinazionale ma quello che succede all'interno della tua giornata lavorativa no rimane tuo ed è esterno no ad esempio a quanto accade con o alla tua compagna piuttosto che a tuo marito tua figlia tuo figlio e via discorrendo cioè è una parte se vogliamo di vita privata no rispetto alla relazione perché poi ci si mette su l'abito la giacca la camicia quello che prende si va in ufficio in officina in studio e via discorrendo e quella parte lì è una parte intima cioè tua esclusiva cioè ti appartiene non appartiene necessariamente alla coppia o alla famiglia ok quindi è un qualcosa in cui tu sei con te stesso magari sei in mezzo ad altre persone ai dei colleghi litighi col tuo socio col tuo capo con chi vuoi però fa parte di un altro registro di vita in un qualche modo ok e quando questo registro di vita il lavoro ad esempio è più positivo o viene vissuto come un'isola felice come ho detto prima diventa anche protettivo o diventa il luogo in cui rifugiarsi nel momento in cui le cose ad esempio dal punto di vista familiare o a casa non vanno come si vuole non c'è ti dico questa cosa perché stavo leggendo una ricerca recente sull'argomento che secondo me è abbastanza interessante c'era segnalato che insomma all'interno di tutti questi dati che il numero maggiore ecco di crisi di coppia emerge durante le festività no questo è facile capirlo perché perché si sta tanto tempo insieme allora si passa l'estate con la propria moglie il marito compagno fidanzata occhi per essere a un certo punto saltano fuori problemi perché il tempo è trascorso insieme durante le feste di natale la stessa cosa la coppia sta insieme e la coppia va in crisi perché si rende conto che c'è una discrepanza tra ciò che la coppia si racconta di essere ciò che poi è in realtà perché si vive durante le ferie vedi se lo giri il lavoro diventa l'isola felice non c'è diventa il contesto in cui meno male che sono finite le vacanze e meno male che domani e lunedì questa cosa adesso sembra grottesca merita un sacco di gente lo dice meno male che torno al lavoro e tra l'altro ti dico di più è vero anche il contrario cioè il lavoro non diventa solo il luogo in cui io magari scappo mi allontano prendo una pausa dal mio problema ma talvolta soprattutto per persone che sono super focalizzate sul lavoro famoso staccano vista quelli che lavorano lavorano lavorare che il lavoro occupa una parte enorme all'interno delle loro vite a volte esiste il meccanismo opposto cioè il problema ad esempio familiare fa capolino all'interno della condizione lavorativa sviluppando un problema lavorativo cioè è come se il lavoro talvolta fosse il luogo in cui siccome io sono super concentrato dentro lì riesco anche a capire che cosa non sta funzionando nella mia vita e quindi diventa anche talvolta è come dire una sorta di cartina tornasole no che è in grado di andare ad intercettare il problema fuori riportarlo riproporlo all'interno del contesto lavorativo in modo tale che venga visto mi interessa molto questo tema per avere una visione a 360 gradi puoi spiegarmelo ancora meglio sì ti faccio un esempio che faccio prima allora prendi questa storia imprenditore ha creato insomma negli anni in quasi trent'anni di carriera un mezzo impero vivendo dire nel senso che tanti dipendenti filiali in diverse nazioni sono multinazionale che conduzione assolutamente familiare ha preso in parte minuscola le redini dal padre che aveva un piccolo laboratorio e ha creato una grandissima realtà ok quindi di fatto si è fatto da zero e ha creato un qualcosa che prima non c'era quindi per farlo adesso senza spiegarti tutte le vicissitudini ha dedicato tantissimo tempo e come tantissime volte si dice non l'ha fatto da solo cioè non solo perché ha trovato dei soci di collaboratori dei dipendenti che hanno sposato la sua casa ma causa ma anche perché aveva accanto una moglie che lo ha supportato e come si suol dire sopportato no in tutto questo cioè progetto di coppia investe tantissimo lavora tantissimo viaggia tantissimo e va avanti così però nel frattempo costruiscono una famiglia hanno dei figli insomma ad un certo punto ti racconto questo perché super interessante sviluppa la fobia di volare cioè un imprenditore che ha viaggiato per anni a destra e a sinistra per tutto il mondo suo e giù ad un certo punto di punto e in bianco sviluppa la paura di volare c'è uno che aveva come dire nel portafoglio le tessere delle mille miglia no per intenderci sviluppa questa fobia qui questo problema qui e dice mi chiama e dice ho un problema lavorativo qual è il problema lavorativo è però un lavorativo che io sono un imprenditore e devo andare a visitare clienti sono stato abituato a viaggiare in tutto il mondo ci sono stati periodi della mia vita che facevo una settimana negli stati uniti una settimana in asia e due settimane in europa ea volte quando ero in europa non ero neanche a casa ora non riesco più a prendere un aereo cioè dovevo andare da milano a roma ero terrorizzato mi devo spostare in macchina questa cosa la sto facendo per fortuna ho le risorse che mi permettono di dire va bene sono io che scelgo l'orario e possono benissimo permettermi di spendere una giornata per andare giù e magari posso andare in sicilia in auto ma se devo andare in turchia se devo andare in giappone questa cosa mi terrorizza sto continuando a cambiare gli appuntamenti sto continuando a cambiare le gli orari le date sto cercando di fare meeting sempre più online però non sembra questa cosa possibile soprattutto perché non lo scelgo io ma perché è un qualcosa che mi blocca e dottore mi deve aiutare ma sono facendo la verità allora iniziamo a capire entriamo nella storia entriamo in cosa è successo è vista da fuori ti sembrerà bizzarro no lo sviluppo di questo sito in realtà poi entriamo sempre di più e ci accorgiamo che tutta una serie di fatiche non le stava vivendo la sua professione che si sicuramente era compromessa dall'impossibilità sua di volare ma la sua famiglia adesso senza poi violare la privacy di nessuno c'erano tutta una serie di situazioni familiari 2 nella fattispecie una che riguardava la moglie e uno che riguardava i figli che in un qualche modo necessitavano la sua presenza non c'era una sorta di richiamo e allora anche qui per andando avanti veloce siamo arrivati a ricostruire come il sintomo sia per tutta una serie di elementi temporali che per significati no che sia questo sintomo aveva che le scelte lavorative che stava facendo stavano avendo su di lui e sulla sua famiglia altro non era che il bisogno di rimanersene a casa ok magari detto così sembra anche lineare semplice in realtà ci abbiamo messo un po a capire i significati profondi di questa cosa però è proprio questo c'è il bisogno che la famiglia non manifesta per lui è uno lo è tuttora che che lavora un sacco non sacco di ore giornaliere il bisogno che la famiglia manifestava e che lui da un punto di vista razionale conscio era incapace di cogliere nel momento in cui tornava a casa stanco si metteva sul divano e cercava di riposarsi un attimo è riuscito a cogliere tramite il lavoro quindi c'è il sabotaggio lavorativo ovviamente che lui ha messo in atto che cosa è stato è stato il modo inconscio di rispondere al bisogno della sua famiglia che infatti mano a mano che lui è andato avanti così perché prima di contattarmi sono passati sei mesi sette mesi senza prendere un aereo una persona che ne prendeva hai capito quanti al mese e dopo di che ce ne aveva messo in un altro paio abbondanti per riuscire a capire questo pezzo qui c'è per riuscire a costruire tutti i significati profondi ed è diventato il modo che lui ha sviluppato per essere presente prendersi cura della sua famiglia che infatti poi progressivamente come una bilancia in qualche modo si è riequilibrato ora poi non ti spiego tutta la terapia cosa è successo cosa non è successo è chiaro che una volta che abbiamo messo a fuoco questo l'aereo l'ha preso e ha ripreso la sua vita però il concetto è a volte se io ad esempio mi sento super prestazionale sul lavoro questa cosa capita tantissimo ai manager gli imprenditori cioè persone che hanno una fetta enorme della loro vita occupata dal lavoro cioè di sviluppare un sintomo lavorativo che magari il lavorativo non è ma che ha origine altrove perché il lavoro è l'ambito in cui il loro orecchio più sensibile quindi se io sviluppo un sintomo lì sicuramente lo ascolto sono abituato a maneggiare e non solo mi sento anche confidente mi sento capace di poterlo affrontare perché si chiede a qualunque imprenditore la maggioranza insomma si sente molto più capaci di affrontare dei problemi lavorativi che dei problemi familiari quindi se il problema si presenta da un punto di vista lavorativo anche il senso di auto efficacia aumenta e migliora nel poter affrontare la difficoltà stessa ma io c'è nel mentre io guardavo